Buongiorno, benvenuti nel nuovo portale della provincia di Ancona, un portale che si pone come interlocutore per aprirsi, ma anche per comunicare, per far conoscere le importanti deleghe di cui ci occupiamo. La nostra è una realtà d'aria vasta, 49 comuni, tutti ugualmente importanti, che hanno un filo comune che li appunto unisce la bellezza, la storia, le radici, la cultura. Noi ci occupiamo di deleghe molto importanti, che vanno dal ciclo completo dei rifiuti alla pianificazione, soprattutto di copianificazione d'aria vasta, vorremmo parlare nei prossimi anni, ci occupiamo di edilizia scolastica, di formazione, di lavoro, di ambiente e di cultura. Di tutti questi argomenti voi troverete tracce molto significative, ma soprattutto facili da raggiungere. Il nostro è un sistema interattivo, non solo virtuale, perché la provincia vuole essere molto più vicina di quanto non si creda proprio ai cittadini. In un filo diretto speriamo davvero di riuscirci. Quindi non mi resta che augurarvi buona navigazione e poi magari fra un po' di tempo ci risentiremo per dirci pregi, difetti, punti di forza, punti di criticità, che speriamo che non ci siano.